Ciao a tutti, siamo di nuovo qua, nonnetta e figlietta. Oggi festeggiamo il nostro primo mese di video insieme a voi, così abbiamo deciso di farvi un dolce speciale. Festeggiamo con un tortino al cioccolato col cuore morbido. Andiamo, auguri! Gli ingredienti sono 75 g di cioccolato al latte, 40 g di burro, 10 g di farina, 5 g di cacao dolce, un uovo intero, 45 g di zucchero, 2-3 bocce di estratto di rum, poi serviranno degli stampini e gammati. Per prima cosa facciamo sciogliere al bagnomaria la cioccolata. Nel frattempo che aspettiamo che il cioccolato si fonda, noi iniziamo a frullare l'uovo con lo zucchero. Quando lo zucchero con l'uovo saranno belli spumosi, aggiungiamo 2 gocce di rum, estratto, estratto di rum. E' fatta che ha premesso. 2. 2, 2, basta, basta, non vede troppo forte. Quando il nostro cioccolato si sarà sciolto, aggiungiamo il burro e facciamo sciogliere insieme. 3, 2, basta, non vede troppo forte. Quando la nostra cioccolata con il burro saranno belli sciolti, li svuotiamo nell'uovo. Che so. Aggiungiamo la farina e il cacao. Aggiungiamo la farina e il cacao. Ora possiamo sversare il nostro impasto dentro gli salpini. Preriscaldate il forno a 180 gradi e poi inforniamo. Spegniamo il forno e sforniamo. Capavolgiamo senza bruciarci. Decoriamo con lo zucchero a velo. Servitelo caldo e buon appetito! A presto! Ok! Grazie a tutti.